Sicuramente io ho invitato, l'ho fatto anche io la terza dose e che necessita, la situazione è diventata ingravescente, ci sono un sacco di persone che si ammalano, giovani e abbiamo situazioni in cui anche qualcuno che è vaccinato poi ce lo troviamo positivo, naturalmente con non la stessa gravità. Però quelli che non sono vaccinati, ci sono molti giovani che vanno in terapia intensiva, quindi io l'invito è quello che la vaccinazione è la prima cosa, maschiline e distanziamento e chi è che è passato già il tempo per fare la terza dose, oltre i sei mesi faccia la terza dose. Per quanto riguarda il numero dei ricoveri, lei mi diceva che un 90% non sono vaccinate. Il 90% che noi ricoveriamo non sono vaccinate, un 10% che naturalmente si ricovera, ma normalmente non ha grossi problemi.